Ciao creatura, io sono Eccate Splendente e benvenuta o bentornata nel regno di Gullai e S.M.A. Questa sera ti porto una recensione, mi hanno chiesto una recensione onesta su questo prodottino qui, che in realtà è un kit. Sono due prodotti di un brand che non conoscevo, I.M.I.M.I.M. e che vendono, ho visto c'è un negozietto su Amazon. ed è un siero più crema per i contorni occhi che serve appunto per i contorni occhi e adesso ti mostrerò ci saranno magari varie scene e volevo anche leggerti appunto i componenti di cosa è composto io ho visto cosa serve però quando provo a spiegarlo oggi mi incasino e invece se leggo è meglio quindi probabilmente ci sarà un audio in sto fondo comunque sono struccata perché appunto l'ho provato per due settimane e ho fatto il prima, la ripresa il prima e adesso il dopo io non so se si vedono cambiamenti effettivi, forse due settimane è troppo poco per vederne però so che come routine sto cercando di appunto di metterla almeno una volta al giorno dovrebbe essere una al mattino e una alla sera ma la sera mi dimentico sempre e vabbè quindi l'ho provata per metà diciamo due settimane solo al mattino e come routine è molto rilassante e quindi voglio usare tutto il prodotto e adesso lo mettiamo insieme, stamattina ancora non l'ho messo e ho il giorno di ferie quindi ho approfittato e dobbiamo fare il video insieme allora c'è come prima cosa da applicare il siero che è non liquido, né liquido né troppo denso è una specie di gel però, un gel liquido non so come spiegarti, tra il gel e... vabbè, devi provarlo comunque mi piace il fatto che non abbia alcun odore mettiamo due gocce del siero e poi andiamo a... spalmarlo così... anche così... sotto il contorno occhi andiamo a anche bigliettare si assorbe subito e... sarà che la mia pelle è molto secca anche quella perché bevo poco e perché mi dimentico di bere, ma dettagli allora la prima volta che l'ho messo mi sentivo un po' tirare invece adesso mi sono tipo abituata e la sensazione è piacevole, cioè non come perché avevo provato altri contorni occhi e davano questo effetto è perché ti sentivi tutto a tirare e chissà cosa c'era dentro poi si va ad applicare la crema e mi piace perché ha questa specie di tappino che protegge perché... c'è un pochettino qui e così non si ossida andiamo a... spruzzare ok ne dà una quantità giusta perfetta che non so mai quanto metterne invece così è già perfetto vado ad applicarla sempre facendo i soliti movimenti metto anche un po' qua e andiamo sempre dal... dal dentro verso il fuori io non so se tu vedrai il prima e il dopo se ci sarà qualche cambiamento però... lo trovo anche un momento molto rilassante è molto... che vabbè dici potrei farlo con qualsiasi altra crema probabilmente si a me... cioè onestamente non so se mi faccio influenzare ma mi sembra di aver visto qualcosa di diverso però non lo so perché io non sono molto esperto poi io mi vedo ogni giorno quindi è difficile mi sembra di essere più sgonfia di avere meno occhiaie forse proprio perché adesso mi prendo cura del mio contorno occhi che allora... non lo so creatura mi sembra una necessità del cavolo l'ho detta così io mi sono trovata bene comunque mi sono tutti ingredienti molto buoni se ti va di provarla mi faccio... probabilmente mi sono fatta dare un codice sconto per provarla anche... così puoi provarlo anche tu creatura poi mi fai sapere cosa ne pensi nei commenti nei commenti se... oppure ci sentiamo su instagram e mi fai sapere se... l'hai provata gli ingredienti mi sono tutti buoni adesso io non sono una chimica quindi però poi io sono... non lo so mi piace tanto in realtà questo prodottino penso che quando lo... lo finirò me lo comprerò io si adesso vediamo anche... nei giorni passati quando finirò il prodotto che cosa... come mi sentirò e tutto non lo so se si vede qualche cambiamento calcola che io adesso sono appena stata fuori al caldo sono andata a final family a comprare delle cose poi sono tornata indietro ero super sodata però ho detto devo fare assolutamente questo video e vabbè provo mi tolgo il cuffio e mi avvicino per vedere se... potrei anche fare il prima e il dopo tipo così adesso probabilmente c'è la luce... beh la stessa luce... c'è la luce sparata tanto quanto... nell'altro video quindi... si vede qualche differenza non lo so andrò a vedere l'altro prima o dopo non ho trucco perchè appunto va messa... col viso pulito deterso ovviamente come tutti i prodotti delle creme altrimenti non ha senso e niente fammi sapere cosa ne pensi nei commenti fammi sapere se... ti andrà di provarla ti lascio tutti i link utili come al solito nell'info box del video e... e niente se tu sei più pratica in queste cose e vuoi darmi la tua opinione o consigliarmi i prodotti io sono liberissima cioè sono molto felice di poter... oppure se volete che provo altri prodotti li prendo e li proviamo insieme in qualche video fammelo sapere creatura lo faccio volentieri faccio la cavia umana per te creatura good job anche se comunque hanno chiesto a me di fare questa recensione e mi sembrava... volevo dirle... eh ti piace vincere facile perchè a me danno sempre siccome questo è anti-age no? mi danno sempre della... cioè quando dico la mia reale età mi dicono no non è vero nemmeno anche al lavoro mi danno sempre meno anni ma io ho... 35 anni creatura si lo so che sembro una... boggia come si dice qua in diretto sono una ragazzetta una ragazza ma sono una donna di 35 anni e... no dai forse senza trucco si capisce che... no ma in realtà di solito sono senza trucco al lavoro e mi danno bene vabbè comunque forse perchè non me la tiro vabbè no comunque è una cosa di... a parte gli scherzi è una cosa di famiglia e... e quindi ho detto a chi ti amo davvero fare il prodotto anti-age a quella che è già sempre giovane no scherzo comunque è una battuta e... ma comunque una roba genetica perchè mia nonna se n'è andata che aveva 94 anni ma... ne dimostrava ancora 70 quindi... ottimo tralasciando tutto ciò il siero che suono super ASMR a faccia senti cioè io adoro queste boccettine che tra l'altro queste sono di vetro per quello che fanno questo suono così bellissimo poi c'è nera top perchè anche il packaging anche l'occhio è la sua parte dei packaging è nero è molto elegante secondo me è bello mi piace con questa scritta bianca semplice conta gocce nero di vetro che non è plasticoso è una cosa che può preservare meglio il contenuto poi mi piace un sacco che non abbia odore che di solito per metterci le fragranze poi vanno a scombinare tutto poi diventa una roba fastidiosa mi sento tutta fresca tutta non tirata ma non so se ha un effetto placebo però poi mi fa bello mi piace la sensazione che mi lascia molto piacevole anche perchè attualmente io al lavoro ho ancora la mascherina quindi l'unica cosa che mi si vede è il contorno occhi quindi deve essere bello altrimenti c'è veramente l'unica cosa che si vede ormai speriamo che ce le tolgano mi fa quasi strano stare senza mascherina adesso vabbè comunque lasciami un like iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto anche questo video volevo parlare lentamente ma non ce l'ho fatta su amazon i prodotti vengono presentati in questo modo imim sterri ai duo è composto da crema contorno occhi anti età e siero per occhi anti età ristrutturante due prodotti eccellenti con ottime prestazioni anti invecchiamento e buone proprietà idratanti e nutrienti kit perfetto per risolvere il problema principale degli occhi la formula premium riduce notevolmente l'aspetto di occhi importante segno dell'invecchiamento oculare alleva ammortizza e illumina la pelle delicata sotto gli occhi per risvegliare la finestra usurata del cuore e farla risplendere gli ingredienti anti rughe ricostruiscono l'elasticità del collagene intorno agli occhi e forniscono alla pelle idratazione e nutrimento per un aspetto più sano e soddisfacendo tutte le vostre esigenze anti invecchiamento applicare prima il siero per occhi anti età ristrutturante poiché fornisce un'elevata concentrazione di nutrienti in profondità nella parte inferiore della pelle e stimola la micro circolazione degli occhi applicare poi la crema anti età smoothing wrinkle che lascia una pellicola protettiva invisibile dedicata sulla superficie per intrappolare tutte le sostanze nutritive i nostri prodotti sono stati progettati per essere applicati su tutta la zona degli occhi per tonificare la pelle ridurre le rughe e schiarire gli anelli scuri i nostri prodotti hanno una formula naturale e una consistenza leggera e sedosa che non danneggia l'ambiente e il corpo umano discrezione prodotto l'imim starry starry ai duo nutri la pelle degli occhi levica le rughe e ripristina la vitalità giovanile degli occhi mentre la pelle è calma imim starry ai duo rende i tuoi occhi più grandi luminosi e forti prova imim starry ai duo e lascia che i tuoi occhi brillino come diamanti chiari bella traduzione italiana è top direzioni applicare 2-3 gocce di siero per occhi direttamente sulla pelle pulita e concentrarsi sul contorno occhi tamponare delicatamente dagli angoli interni fino all'osso della birra in che senso? successivamente premere una quantità di crema per gli occhi sul dito anulare pulito e io l'ho fatto sull'indice vabbè stessa applicare dagli angoli interni dell'occhio alle tempie intorno al contorno occhi premere delicatamente con movimenti circolari per ottenere un massaggio rilassante evitare grandi espressioni nei prossimi 5 minuti addirittura allora per quanto riguarda la crema gli attivi principali che troviamo all'interno all'interno sono la vitamina C 2% l'acido ialuronico 0,5% e vitamina B3 0,5% invece all'interno del siero troviamo la vitamina B3 2% e l'acido ialuronico 0,5% io avendo la pelle molto molto delicata è perfetto fare questo test e in conclusione direi che consiglio questo kit per le persone che come me non hanno una routine bella per il contorno occhi appunto andrebbe usato mattino e sera però io fino adesso l'ho usato solo la mattina però mi concentrano in usarlo anche la sera e quindi consiglio questo kit per chi vuole provare la vitamina C e ha la pelle molto sensibile magari ha paura di avere reazioni allergiche questo prodotto è perfetto per chi ha l'ansia di fare di avere effetti collaterali diciamo e è un prodotto efficace ma è attento a non essere irritante per gli ingredienti che ha all'interno spero che questo video ti abbia fatto rilassare io ti auguro buonanotte buon relax ciao creatura